Amici miei possiamo diventare Iron Man qui su Roblox, si avete capito bene possiamo diventare Iron Man e difendere la terra insieme agli Avengers Chiamiamo subito la nostra fantastica tuta, vai cominciamo a trasformarci Oh mio dio, stiamo diventando Iron Man, non ci posso credere, guardate che figata, è proprio come nel film Adesso sono Iron Man e posso combattere Ciao amici iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Roblox Ci troviamo nella modalità Iron Man Battles, le battaglie di Iron Man Avete sempre sognato di diventare un Avenger? Avete sognato sempre di guidare l'armatura di Iron Man? Beh, l'armatura di Tony Stark? Beh adesso potete farlo, si, in questo gioco fantastico di Iron Man su Roblox Comunque in questa modalità bisogna semplicemente mettere l'armatura di Iron Man e bisogna combattere contro gli altri Ed è una figata pazzesca perché l'armatura fa tutti i suoni del film e possiamo anche volare Guardate un po', mio dio possiamo volare, si, possiamo volare come Tony Stark fa nel film Ed è una figata pazzesca perché questa modalità l'hanno fatta velocemente ed è fatta già benissimo in questo modo Che figata, vi immaginate? Poi se aggiungono altri personaggi o altri mostri degli Avengers sarebbe veramente una figata Immaginatevi un combattimento di Hulk contro Iron Man o tipo la Pantera Nera contro Iron Man o altre cose così fantastiche O tipo Thanos, Thanos contro Capitano America sarebbe una gran figata Comunque in questa modalità bisogna metterci l'armatura e poi bisogna combattere Se tipo venite uccisi voi respawnate e dovete chiamare di nuovo Jarvis Sì perché fate tipo Jarvis vieni e dammi l'armatura di Iron Man e arriva subito l'armatura e ve la potete mettere È una modalità molto molto semplice però è veramente bellissima Guardate lì c'è un piccolino, l'avete visto? Adesso facciamo una cosa, voliamo da lui e lo distruggiamo Guardate, guardate, mio dio che figata E' caduto, piccolo Adesso lo colpiamo con il coso, il raggio principale Guardate, guardate Scrivete hashtag uff perché l'abbiamo distrutto Non ci credo, guardate là Da quella parte invece c'è qualcuno che sta chiamando Iron Man Guarda che bello, che figata Poi si è vero si può togliere anche tipo la maschera Premendo alcuni tasti che adesso io non ho capito quali sono Ecco in questo modo, guardate che bello Bellissimo, come nel film Il mio nome non è Armac Zane Il mio nome non è Armac Zane Il mio nome è Iron Man Mamma mia È veramente fatta benissimo questa fantastica modalità Guardate c'è il piccolino, c'è un altro piccolino Guarda, 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 guarda L'abbiamo fatto esplodere Questo invece ci ha tolto l'armatura Hai fatto malissimo a toglierti l'armatura La stava costruendo La stava chiamando l'armatura Perché quando qualcuno chiama l'armatura è tipo È vulnerabile, quindi potete ucciderlo Guardate quello, non può fare proprio niente Piccolino Che figata Possiamo volare e ucciderlo Ovviamente in questa modalità C'è sia l'armatura di Iron Man Sia l'armatura di Iron Man La prima che aveva costruito Che è tutta l'argentata Che poi venne confiscata dal militare Che era il suo amico E poi c'è anche War Machine Sìììì Avete capito bene C'è anche War Machine Cercherò di farvelo vedere Comunque Adesso cerchiamo di finire questo Avete visto che con l'armatura di Iron Man È molto più resistente una persona Ma senza armatura Fa veramente schifo Oh mi ha colpito Quello schifoso mi ha colpito Che cosa credi di fare? Ti distruggo Hai capito? Ti distruggo Più 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 Mamma viene una figata pazzesca Aspettate Colpiamo questo piccolino Cerchiamo di colpirlo Se ce la facciamo Guardano Non ha capito come si chiama L'armatura di Iron Man Devi chiamare Jarvis Per poter usare l'armatura Ovviamente l'armatura C'è una barra qui a destra E se tipo Se si scarica Voi non potete più usare l'armatura E se tipo Se si scarica Voi dovete uscire dall'armatura Perfetto Oh mio dio Sono scarico No Sono scarico credo Ah che cacchio Che male Che male Che male Aiuto Questo qua è più cattivo Scappiamo via Scappiamo via Aiuto Rimaniamo qui in alto Cerchiamo di stare qui Aspettiamo due secondi Uh adesso mi posso riposare Cosa? Mi sta seguendo questo schifozzo Mi sta seguendo Aia Aiuto Non ci credo Mi sono fatto male Ma scrivetemi nei commenti Vi sta piacendo questa modalità Perché a me sta divertendo Veramente tantissimo Se vorreste vedere un altro Fantastico video Raggiungiamo i 3000 mi piace Iscrivetevi al canale Premendo il tasto No se iscriviti No La mia armatura si sta spaccando Avete visto Sto perdendo tanti pezzi Aiuto Che è successo? La mia faccia Non ci credo La mia faccia è cattiva adesso Wow Che figata Cambia anche la faccia In questo gioco Allora Cerchiamo di uccidere quello Mamma mia Mi sta spaccando tutto Non ci credo La mia armatura di Iron Man Si sta distruggendo Che cosa state facendo? Lasciatemi stare Cerchiamo di combattere con i pugni Si potete combattere anche con i pugni Una figata pazzesca Guardate Guardate Mamma mia Mi stanno spaccando quei due Stanno facendo team contro di me Guarda che schifosi Oh no Non ci credo Anche lui però C'ha l'armatura distrutta Avete visto? Che figata No Mi hanno finito Che peccato Quando morite succede proprio questo Respaunate e potete chiamare di nuovo l'armatura Jarvis Voglio un'armatura di Iron Man bellissima Quindi andiamo Veloce Dammi l'armatura Oh avete visto? Questa volta sto diventando Iron Man argentato La prima armatura Che Tony Stark aveva costruito Che figata Che l'aveva testata Perfetto L'aveva testata tipo di notte E stava anche rischiando di morire Perché era andato troppo in alto E la sua armatura si era anche congelata Comunque Andiamo subito Io adoro gli Avengers Adoro tutti i film della Marvel E sarebbe fantastico vedere altri giochi Su Roblox Con i personaggi così Fatti così bene Dove tipo puoi trasformarti E usare quello che vuoi Mamma mia Possiamo volare Andiamo via Sì Guarda qua C'è un piccolino Però questo qua Non è un piccolino Perché c'ha già l'armatura Andiamo a trovare dei piccolini Che sono appena spawnati Così li uccidiamo Guardate Guardate Possiamo volare Che bello Oh da quella parte Ho avvistato qualcuno Andiamo a vedere Che cosa stanno facendo Questi Sì Sto arrivando Oh Questo qua c'ha l'armatura Quasi distrutta Possiamo ucciderlo Possiamo ucciderlo Secondo me c'ha l'armatura scarica Avete visto Gli stiamo facendo tantissimo danno Perché più perdete pezzi Dell'armatura di Iron Man E più diventate più deboli Infatti guardate La stiamo distruggendo Gli stiamo distruggendo L'armatura di Iron Man Non ci credo Guarda che piccolino Non lo facciamo ne a cazzare Boom 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 Vai 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 Continuiamo così Continuiamo così Che lo uccidiamo Sì Andiamo veloci da lui Ah che cacchio Mi sono fatto male E cerchiamo di finirlo Dai dai Sì È uscito dalla sua armatura L'abbiamo acceso Sì Questa volta invece Diventeremo War Machine Guardate un po' Godetevi Godetevi adesso War Machine Che sta arrivando In questo momento Sì Con War Machine Sapete Siamo tipo più potenti Abbiamo la mitragliatrice Eccetera eccetera Guardate qua Abbiamo tipo un mitra Sul braccio Abbiamo tipo un'altra mitragliatrice Un altro mitra Da un altro braccio E poi secondo me Abbiamo la mitragliatrice Mamma mia Guardate quanto è un B Guardate Con questa mitragliatrice Possiamo fare Tanti 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 danni Mamma mia War Machine Lo adoro Che figata Adoro sia Iron Man Che War Machine Ma comunque adoro Tutte le armature di Iron Man Tutte le marche Sono fantastiche Allora facciamo una cosa Scendiamo adesso sotto Da questo qui E cerchiamo di combattere Sì Andiamo Vediamo quante potente La mitragliatrice Mamma mia Guardate Guardate Li sto togliendo tantissima vita Pazzesco E poi abbiamo le altre mitra Altri mitra Nei bracci Che sono potentissime Perfetto Continuiamo così Mamma mia Che figata Sì Mamma mia Che bello Andiamo però a cercare Qualcuno che ha Un'armatura tipo distrutta Come tipo lui O forse lui Si è tolto semplicemente La maschera Vediamo se possiamo Togliarla anche noi Oh no Sono uscito dalla mia armatura Non ci credo Scusa 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 Rientriamo subito Sì Cosa credevi di fare Volevi spaccarmi l'armatura Io ti spacco Io ti spacco Togliamoci la maschera Mamma mia Che bello Che bello Adoro questo effetto Adoro questa animazione Di quando Ti togli la maschera Guardate Guardate Proprio come Proprio come Nel film Oh mio dio State tutti fermi Io sono il generale Erbac Avete capito Non potete fare casino Oh guarda che bello Questo qua C'è l'armatura distrutta Credo Perché non c'è più la maschera Avete visto Credo che lui Sia tipo ferito Ma sapete che secondo me Invece L'armatura di War Machine È più debole D'armatura vera Perché guardate Non fa così tanti danni Io mi aspettavo Che fosse più potente Invece no È più potente L'armatura di Tony Stark Oddio Abbiamo spaccato il casco Mamma mia Abbiamo staccato il casco A questo Non ci credo Usiamo la mitragliatrice Usiamo la mitragliatrice Continuiamo Continuiamo così Che secondo me Lo distruggiava questo Sì Guarda qua Mamma mia Lo stiamo spaccando tutto Gli stiamo spaccando Tutta l'armatura Continuiamo Continuiamo È potentissima L'armatura di War Machine Fantastico Guarda Ne la stiamo spaccando tutta Mamma mia Che bello Guarda Guarda La mitragliatrice Che abbiamo sulla schiena È veramente potentissima Non ci credo Mi sto divertendo tanto Se vorreste vedere altri video Raggiungiamo i 3000 mi piace E iscrivetevi al canale Premendo il tasto rosso Iscriviti Guarda Guarda Non può più fare niente Mi dispiace piccolino Ti abbiamo spaccato Ti abbiamo spaccato Con la mitragliatrice La mitragliatrice È troppo forte Sì E adesso ce ne possiamo andare via In un altro posto Oh mio dio Ecco un piccolino Sì Fantastico Andiamo 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 Prima che chiami qualcuno No No La sta chiamando adesso Fermiamolo Fermiamolo Non ci credo L'ha già chiamata Usiamo Usiamo la mitragliatrice Vediamo se possiamo distruggerlo Sì Boom 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 Spacchiamo tutto War Machine contro Iron Man War Machine contro Iron Man Boom 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 Oh mio dio Boom Dai dai continuiamo Continuiamo che ce la facciamo ad uccidere Boom Boom Si sta parando Ecco che cosa sta facendo Vuoi combattere Allora ti distruggo Io sono War Machine Il potente Iron Man militare Sì Ok Gli stiamo spaccando tutta l'armatura Ve l'avevo detto che ero potente Mamma mia che figata Sentite i suoni Sono veramente bellissimi Mamma mia Lo stiamo spaccando Sì E l'abbiamo fermato L'abbiamo ucciso Comunque Spero che questo video di Iron Man Su Roblox Vi sia piaciuto Ditevi nei commenti Cosa ne pensate Raggiungiamo i 3000 vi piace Per un prossimo episodio Iscrivetevi al canale Premendo il tasto O se iscriviti E ci vediamo A un prossimo video Ciao ciao